Buonasera a tutti, grazie Maestra Africa, veniamo dal Friuli Venezia Giulia, siamo simpatici. Il gruppo si chiama Maista Africa, maista Africa nel nostro dialetto maista significa, boh ma è comprensibile a voi, significa mai stato, non ci siamo mai stati ed è proprio questo che vogliamo dire qui. E niente, in realtà è giocoso ma insomma siamo assolutamente più che rispettosi di tutte le tradizioni, tutte le culture musicali, non musicali, tutte le culture di questo mondo che va riegato ed è bello per questo. E soprattutto di questi tempi dove si parla un sacco di cose, va da retro, lo straniero, la storia è fatta di mescolanze e di trasferimento di culture da una persona all'altra. E questo è il risultato, è uno dei risultati possibili, il fatto che arrivano delle sonorità, uno le prende, le fa proprie perché le sente e le trasforma. E questo è quello che facciamo noi. Buon ascolto. E questo è quello che facciamo noi. 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 Grazie.